Un atto condannato da più parti, l'episodio di ieri in cui una donna eritrea all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa è stata vittima di un'aggressione verbale da parte di alcune persone presenti nel reparto di neonatologia. La squadra mobile ha chiuso il caso dell'omicidio di Maria Zarba, consumatosi lo scorso 11 ottobre nella sua abitazione a Ragusa. Le prove raccolte a carico dell'ex marito hanno acclarato quanto scoperto nelle indagini iniziali. La città di Scicli nel caos rifiuti di vario tipo anche pericolosi sono abbandonati in diverse aree. Sulla questione l'amministrazione intende intervenire e probabilmente si paventa anche la revoca del servizio e la ditta che lo gestisce. La Sicilia si conferma la regione dal cuore grande. Nella giornata dedicata alla colletta alimentare nella nostra regione sono stati raccolti quasi 9.000 pasti con un incremento pari al 3,8% in più rispetto alla colletta 2017. Buon pomeriggio e bentrovati a MTG in apertura. Parliamo dell'increscioso episodio che si è verificato ieri. Non si sarebbe trattato di un atto di razzismo ma l'effetto è stato questo. La donna eritrea giunta in ospedale a Ragusa per vedere la propria bimba di 20 giorni sarebbe stata sottoposta a un'aggressione verbale da parte delle persone presenti nel reparto di neonatologia. Un episodio grave condannato da più parti. Ce ne parla Carmela Minardo. Forse non c'era alcun intento razzistico ma l'effetto inevitabile è stato questo. L'aggressione verbale cui è stata sottoposta la giovane mamma eritrea giunta in ospedale al Maria Paterno Arezzo di Ragusa per vedere la sua piccola di 20 giorni partorita in un hangar in Libia prima della traversata è un episodio grave che denota la paura che serpeggia e fa perdere di vista elementari doveri di solidarietà. Alla donna è stato urlato che era portatrice di malattie e quindi non doveva stare lì. Vattene le avrebbero urlato un gruppo di mamme quando l'hanno vista entrare. Il dirigente medico della direzione dell'ospedale Giuseppe Cappello spiega l'accaduto. Allora io credo che questo sia anche il risultato di una eccessiva forse precauzione che noi abbiamo preso nei confronti della paziente che effettivamente veniva con segnalazione di scabbia trattata ma che ha tutto poi il diritto di vedere la sua bambina. Ovviamente essendo stata equipaggiata con i dispositivi di protezione quindi camice, mascherina, guanti eccetera era stata introdotta nella terapia intensiva per ovviamente stare vicino alla sua bambina. Volevo aggiungere che proprio a conferma di quanto la situazione sia sotto controllo la mamma della bambina verrà trasferita ora dall'hot spot di Pozzallo in una stanza di degenza dell'ostetricia proprio per stare vicino alla sua bambina. Quindi non ci sono pericoli di sorta e la situazione è completamente sotto controllo. La donna eritrea era sbarcata lo scorso sabato notte a Pozzallo e aveva partorito da sola in Libia dopo uno stupro. Poi l'ha traversata e l'ha prodo nel comune marinaro. Lei è stata portata all'hot spot mentre la bimba fortemente disidratata è stata ricoverata all'ospedale di Ragusa. La neonata comunque adesso ha già ripreso peso e sta bene ma si trova ancora in ospedale. Tanti gli attestati di solidarietà che giungono alla donna. Di episodio intollerabile parla il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, figlio di un clima diffuso di intolleranza. La nostra città è sempre stata ospitale ed accogliente. Il sindaco Ammatuna apprezza il gesto del suo collega di Ragusa, Peppe Cassì, che riceverà in comune la giovane mamma. Certamente pensiamo di parlare con questa donna proprio per trasmetterle questo messaggio. Ragusa è una città tollerante. Non è quello che è successo ieri assolutamente indicativo di come la pensano la stragrande maggioranza dei ragusani. Restiamo a Ragusa e cambiamo argomento. La squadra mobile ha chiuso le indagini tecnico-scientifiche sull'omicidio consumato a Ragusa lo scorso 11 ottobre quando è stata rinvenuta cadavere la 66enne Maria Zarba. Per il delitto della donna era stato fermato l'ex marito Panascia. Le tracce di sangue della vittima sui suoi indumenti e ritrovate nella sua auto hanno permesso di acclarare quanto già effettuato nelle prime 24 ore di indagini grazie anche alla ricostruzione delle telecam, delle immagini ricavate dalle telecamere di videosorveglianza. Fonti di problematiche appunto sono state raccolte a carico dell'indagato che rimane in carcere. I dettagli da Viviana Sammito. Omicidio Zarba. Il caso per la squadra mobile di Ragusa è chiuso. Sono emersi nuovi elementi sul delitto della donna di 66 anni Maria Zarba uccisa l'11 ottobre scorso nella sua abitazione di via Gion Battista di Arna Ragusa. Per l'assassinio è indagato l'ex marito, 73 anni, tecnico di laboratorio. Giuseppe Panasci è incastrato prima dai sospetti del nipote, poi dalle telecamere di videosorveglianza e ancora dalle tracce ematiche rinvenute nei suoi abiti e nell'auto. L'uomo aveva dichiarato agli investigatori che le macchie erano di couscous il suo piatto preferito e che di sicuro si era sporcato mentre cucinava nei giorni precedenti. Una testimonianza resa negli uffici della questura di Ragusa con molta freddezza, ma ciò non ha precluso l'approfondimento investigativo nei suoi confronti. Ecco la ricostruzione dell'omicidio Zarba degli investigatori. L'uomo nel pomeriggio di giorno 11 ottobre, dopo le reiterate discussioni con la moglie con la quale da un anno aveva un rapporto burrascoso, ha iniziato a colpirla mentre era di spalle seduta in cucina a guardare la televisione. Dopo numerosi colpi inferti alla donna che ha tentato in tutti i modi di difendersi, l'uomo si è cambiato d'abiti lasciando riversa a terra in una pozza di sangue l'ex moglie. Nonostante questo cambio d'abito, l'uomo si è sporcato di sangue i pantaloni, la camicia e il maglione. Dopo aver consumato il delitto, Panasci è uscito da casa per raggiungere la sua auto e mentre saliva ha lasciato altre tracce di sangue impercettibili d'occhio nudo, proprio sul tappetino del veicolo. La presenza dell'ex marito nella casa della vittima era stata anche registrata dalle telecamere di videosorveglianza di attività commerciali e ricettive della zona. Subito dopo il fermo è stato chiesto dalla mobile al 73enne di spogliarsi e consegnare tutti gli indumenti, compresi gli effetti personali e le scarpe. I capi d'abbigliamento e le maglie dell'orologio erano intrisi di tracce di sangue. Nei laboratori della polizia scientifica, oltre ad aver accertato la presenza delle tracce matiche, è stato possibile estrarre il DNA dai campioni di sangue repertati e compararli con il DNA dell'indagato e della vittima. Grazie a questa analisi è stata confermata con assoluta certezza l'appartenenza del sangue tanto all'indagato quanto alla vittima. L'accanimento sulla donna era evidente d'occhio nudo ed è stato poi attestato in atti dal medico legale Giuseppe Iuvara, nominato dalla procura. Giuseppe Parascia rimane recluso nel carcere di Ragusa con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal fatto che è stato commesso ai danni del conuge legalmente separato. Il corpo di Maria Zarba ha trovato pace dopo i vari esami irripetibili al cimitero di Vittoria dove è stato sepolto il 19 novembre scorso. E da Ragusa ci spostiamo a Catania, sit-in di solidarietà questa mattina dei dipendenti della società che gestisce le strisce blu per sostenere il collega che ieri è finito al pronto soccorso del Garibaldi perché selvaggiamente picchiato in via Vittoria Emanuele sull'episodio sta indagando la polizia di Stato da una prima ricostruzione. Pare che una lavoratrice della società che si trovava insieme a un collega notando un'auto parcheggiata che non aveva il tagliando del pagamento della sosta notturna ha elevato una multa. Il proprietario della vettura non ha accolto bene la multa è uscito dal locale dove si trovava e ha preteso l'annullamento della sanzione. La lavoratrice della sostaria avrebbe cercato di spiegare che non c'era più nulla da fare e tutto sembrava essersi chiuso ma poco dopo l'aggressore è tornato sul posto accompagnato da altre persone e ha cercato il dipendente che era con la donna aggredendolo alle spalle. Per il dipendente sono stati dati dieci giorni di prognosi e questa mattina è stato ricevuto dal prefetto. Ancora una volta a Piazza Segna a Vittoria, luogo di spaccio, la polizia di Stato tramite alcune segnalazioni ha notato un tunisino e un algerino già con precedenti che cedevano sostanze stupefacenti a due persone a bordo di un'auto. Gli agenti si sono dunque avvicinati, uno degli spacciatori è riuscito a fuggire. I poliziotti hanno trovato il passeggero dell'auto in possesso di 14 stecche e 4 frammenti di hashish, mentre a casa sua è stata rinvenuta un'ulteriore stecca di droga è tutto sequestrato. Controlli negativi invece nei confronti dello spacciatore e del conducente dell'auto che però è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. Il tunisino dunque è stato arrestato per detenzione spaccio di sostanza stupefacente, in mente era algerino che si era dileguato. È stato deferito e stato di libertà all'autorità giudiziaria. Il conducente dell'auto invece è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, segnalata alla prefettura per uso personale di droga, un'altra persona trovata in possesso di hashish. E cambiamo argomento, fa discutere il decreto sicurezza approvato dal Parlamento. Alcune restrizioni introdotte sono considerate un limite in costituzionale ai diritti umani e per la Caritas la normativa favorirà un vero e proprio traffico di permessi di soggiorno e servizio. Una stretta pericolosa sui diritti umanitari e sui doveri elementari di solidarietà. La Caritas lancia l'allarme sul decreto sicurezza approvato dal Parlamento con voto di fiducia divenuto legge. Il decreto Salvini fa discutere come è più di prima. Per la Caritas c'è un rischio, crescerà lo sfruttamento dei lavoratori e nascerà un vero e proprio traffico di permessi di soggiorno. Siamo molto preoccupati perché questo determinerà una presenza di persone irregolari, cioè di persone che escono dalle strutture di accoglienza, che non avranno i documenti e che si ritroveranno qui sul territorio. Per cui i rimpatri non sono ancora partiti rispetto alle dichiarazioni effettuate, ma soprattutto saranno delle persone che non avranno alcuna protezione dal punto di vista dei documenti, dal punto di vista della salute, delle abitazioni, del lavoro, di un minimo di sostegno anche economico. Noi abbiamo già dei sentori che delle persone che hanno il permesso umanitario che gli scade a gennaio e febbraio e che non hanno un lavoro, quindi per poterlo trasformare, stanno cercando in tutti i modi delle vie per far sì che quel permesso umanitario possa essere trasformato in un permesso di lavoro. E in quale forma potrà essere trasformato? Noi ce lo chiediamo, ce lo chiediamo e non vorremmo ritrovarci con delle situazioni di abusi e, come dire, di ingiustizie, su cui peraltro tante situazioni, uomini e anche donne con bambini presenti nel territorio, vivono questo dramma. Rifiuti, cicli nel caos, da indiscrezioni, si apprende che l'amministrazione comunale stia valutando la revoca del servizio. La scicchile viene fatta male, è un po' colpa del cittadino che non rispetta le giornate, quindi le borgate, sia anche le campagne, è un disastro. C'è un sacco di merci buttati per le strade, che è una vergogna. Troppi rifiuti e troppi problemi anche, quindi speriamo che rimediano al più presto. C'è una sedia al super, da vicino agli, è sempre che c'è un ospito. Cosa devo pensare? Purtroppo non funziona niente. Ultimamente di meno, ma prima c'erano molto più rifiuti in giro. Qua vediamo anche la raccolta porta a porta, non è sbagliato. Basterebbe anche dei posti dove ci sarebbero allocati i cassoni. Si andrebbe a differenziare in modo giusto perché uno, essendo sorvegliato, non farebbe le festerie. Una casa, 500-400 piccole monizze e magna. Ed è disordinato il servizio di raccolto oppure va bene secondo lei? Si prendono tutto quello che uno butta, perché uno sa che la plastica quando si esce. Però capodissano anche diminuire, perché gli sacchi e cattavano gli altri. Tutte cose facevano gli altri. E non potevano mancare gli ortaggi, i mobili. E ancora più preoccupante è il fenomeno dell'abbandono di Eternit. Lo potete vedere, lì c'è amianto. Ma l'amianto è presente in quasi tutte le discariche a cielo aperto di scicli. A volte sotto forma di tettoia, altre volte invece di recipiente. Ma c'è un po' di tutto qui. C'è anche una cucina che ha presa a fuoco. C'è quella che una volta era sicuramente una vasca idromassaggio. C'è del vetro. Lo stesso che più volte questa redazione ha denunciato qui nel parcheggio di Cavadaliga. Ma come in tutto il territorio di Scicli. Intanto il comune di Scicli starebbe prendendo reali provvedimenti. Si apprende. E, secondo indiscrezioni, non è escluso. Infatti, che nelle prossime ore l'amministrazione Giannone possa procedere a un provvedimento di revoca alla ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Scicli per gravi inadempienze. E questa mattina si sono registrati dei disagi nella raccolta differenziata a Vittoria. La ditta ha posto il bollino non conforme su molti sacchi che non sono stati raccolti. Ciò è dovuto al fatto che la carta non era stata smaltita in sacchi di plastica, mentre il nuovo sistema di raccolta prevede che vada conferita in sacchi di carta o nei mastelli. Il bollino rosso di non conformità, quindi, è riferito al contenitore e non al rifiuto. Invito i cittadini, come dichiara il vice prefetto Giancarlo Dionisi, a rispettare le modalità di conferimento che sono state comunicate già dalla ditta attraverso un volantino che spiega in maniera chiara le novità. La comprensione e la toleranza saranno limitate a questo primo periodo di adattamento al nuovo sistema che a breve pretenderemo in pieno e assoluto rispetto delle regole. Ha concluso così Dionisi. E Consiglio Comunale Aperto, ieri a Modica, proprio sul tema della raccolta differenziata. I pro e contro della raccolta differenziata ieri sera sono stati affrontati nel corso del Consiglio Comunale di Modica, convocato in adunanza aperta su richiesta dei consiglieri di opposizione per dare voce ai cittadini presenti, solo dieci consiglieri comunali, ed anche il direttore dell'esecuzione del contratto, Dario Modica. Ad aprire la serie di interventi, il consigliere Antonio Ruta, secondo cui non è stata fatta un'adeguata informazione sulla differenziata, ma stelli non capienti e mancata puntualità nella gestione del servizio da parte della ditta. Maggiori cassonetti in aree extraurbane vengono richieste anche dal consigliere Marcello Medica, così come maggiore frequenza per lo svuotamento dei carrellati, un servizio partito con il piede sbagliato, ha detto Medica, che trova difficoltà a mettersi in moto. Ivana Castello invece interviene sul punto di vista economico, chiede all'entità delle somme a beneficio dei cittadini e chiede di sapere quando saranno restituite. Le penalità montano a 2.800.000 euro circa, somme pagate in più dai cittadini che vanno restituite. Nella zona di San Luca, ha detto ancora la Castello, c'è carenza di cassonetti, mentre in via Sacrocuore nel deposito dei cartoni dei commercianti si è registrato qualche ritardo nella raccolta. La Castello propone dei minispot televisivi per educare l'utente correttamente alla differenziata. Presenti anche le associazioni ambientaliste, Giorgio Cavallo di Lega Ambiente suggerisce il porta a porta ed una gestione più intensa nella raccolta potrebbe portare risultati migliori. Cavallo chiede anche perché l'umido non viene conferito a Ragusa, che ha un costo inferiore rispetto a Belpasso, dove si conferisce attualmente. Per il consigliere Agosta quello che è previsto nel contratto non viene reso in termini tecnici e contabili e quindi il RUP deve controllare lo stato del servizio. Ad intervenire anche il DEC Dario Modica, che precisa che le penali scatteranno a decorrere dai 12 mesi successivi al contratto e che nel 2018 ci saranno le trattenute per il mancato acquisto dei mezzi. Il consigliere Salvatore Puedomani poi si sofferma sul rispetto del contratto. L'impresa scarica le responsabilità al Comune, dice, e l'Igm stacca fatture ogni mese per l'importo intero. Ma secondo Puedomani si deve fatturare solo i servizi che vengono eseguiti, mentre l'impresa contesta il ritardo nei pagamenti da parte del Comune. A replicare ci pensa Pietro Lorefici, assessore all'ecologia, che ha assicurato che i cassonetti sono scomparsi nelle zone in cui ci sono i mastelli, mentre si sta lavorando al porta a porta. Qualche problema c'è alla sorda che è in via di soluzione, mentre oggi inizia la consegna delle compostiere che ne sono arrivate 500. Per le conclusioni la parola è passata al Sindaco, Ignazio Abate, per il conferimento del cartone addetto. C'è una discrasia in quanto le discariche hanno un regime controllato che dilate i tempi di raccolta. Sul conferimento a Ragusa dice a Sbate che c'è un contratto non firmato dal CDA della società di gestione e quindi nessun sindaco ha inteso sottoscriverlo. Per il conferimento dell'umida a Ragusa riferisce ancora che sono state trovate all'interno dell'organico anche marmitte di auto e ferro. E questo incide in quanto si tratta di organico contaminato che agisce sul peso dei rifiuti. Modica deve invece conferire quello giusto, cioè un umido quanto meno contaminato possibile. Per quanto riguarda invece l'informazione, ha detto ancora il Sindaco, ci sono stati incontri con le scuole, riunioni con gli anziani e con le associazioni di categoria. Il futuro sarà quello di aumentare i servizi e non aumentare la Tari. Bisogna avere pazienza e nel giro di qualche mese la situazione potrà migliorare. E proprio nell'ambito della raccolta differenziata a modi che è stata presentata questa mattina l'iniziativa EcoShop. Un ulteriore contributo alle modalità e la corretta differenziata dei rifiuti attraverso l'illustrazione delle buone pratiche sulle modalità di raccogliere e distribuire la raccolta differenziata. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa EcoShop presentata questa mattina in conferenza stampa a Palazzo San Domenico a Modica. Noi stiamo cercando di poter mettere in campo tutte quelle misure che possono sensibilizzare i cittadini. Lo vogliamo fare coinvolgendo le imprese, coinvolgendo le aziende e coinvolgendo tutto il tessuto sociale della città. Andremo a spiegare come differenziare la spesa che sappiamo che prima andiamo al supermercato e facciamo la spesa dopo qualche ora quando passa da casa e delle nostre tavole diventa un rifiuto il resto e quindi deve essere differenziato. Quindi è un modo come sensibilizzare tutti. Presenti alla conferenza di presentazione l'assessore all'ecologia Pietro Lorefici e il direttore generale della Conad Sicilia Vittorio Troia il responsabile della SRR Atosette Ragusa Giuseppe Sammito. Il personale specializzato illustrerà a tutti gli utenti che si sono regati presso i punti vendita per fare la propria spesa come poi successivamente quello che prima si è acquistato come imballaggio proveniente appunto dalla spesa quotidiana può essere differenziato successivamente nell'ambito del servizio di raccolta. Ormai quello di cui vogliamo disfarci non viene più considerato come rifiuto ma appunto come risorsa. Al progetto EcoShop parteciperanno anche gli studenti dell'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica e si svilupperà i sabati di dicembre in quattro dei maggiori punti vendita. quello situato sulla strada statale 115 al polo commerciale di Modica a piazza Paolo Balsamo in via Catagirasi 12 e in via Bustello 9 a Frigintini. Noi siamo lieti sicuramente di dare una mano sia all'amministrazione perché parliamo di una cosa seria sia a tutta la cittadinanza nei confronti dei consumatori per fare meglio e quando più possibile farla nel modo giusto la raccolta differenziata. Risultati molto positivi per la colletta alimentare 2018 Grande successo per la 22esima giornata nazionale della colletta alimentare grazie allo sforzo di più di 150.000 volontari alla collaborazione di circa 13.000 supermercati la colletta 2018 ha prodotto un risultato di cibo donato equivalente a 16,7 milioni di pasti con una crescita dell'1,8% rispetto all'anno scorso includendo il contributo di donazione online modalità introdotta per la prima volta per questa edizione 2018 quanto raccolto verrà distribuito nei prossimi mesi alle oltre 8.000 strutture caritative e anche l'edizione 2018 la nostra isola ha dato segno di essere davvero solidale sapendo dimostrare di avere un grandissimo cuore in tutta la Sicilia infatti sono stati raccolti quasi 900.000 pasti con un incremento pari al 3,8% rispetto alla colletta 2017 pasti che nelle prossime settimane verranno distribuite ai più poveri il Banco Alimentare della Sicilia Ollus il Banco Alimentare Sicilia Occidentale Ollus tramite le 725 strutture caritative convenzionate aiutano più di 226.000 persone di questi oltre 42.000 sono bambini da 0 a 15 anni oltre 172.500 persone tra i 15 e i 65 anni e oltre 12.000 è il numero degli assistiti sopra i 65 anni Sono oltre 1.500 gli studenti che il prossimo 3 dicembre verranno coinvolti nella manifestazione Sport in Comune Tutto pronto per Sport in Comune la manifestazione sportiva molto attesa ogni anno che avrà luogo presso il Pala Catania il prossimo 3 dicembre in occasione della giornata internazionale della persona con disabilità L'evento organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico è patrocinato alla Comune di Catania in collaborazione con l'unità spinale unipolare dell'ospedale Cannizzaro l'Unione Italiana Cechi e la Federazione Italiana Disabilità Intellettiva Relazionale Un momento di sport di tutti e per tutti che vedrà l'esibizione e la dimostrazione di svariate discipline olimpiche e sportive da parte di atleti di caratura nazionale, internazionale e olimpica Lo sport è cultura sarà una giornata di sport integrato per inclusione e integrazione ci saranno varie discipline sportive siamo già a quota adesione di circa 25 scuole per cui un introito di circa 1700 bambini che parteciperanno ai ragazzi alle esibizioni e avranno la possibilità anche di provare un giorno per stare tutti quanti insieme con diverse tipologie di disabilità disabilità fisica disabilità intellettiva e disabilità sensoriale avremo anche la collaborazione dell'unità spinale dell'ospedale Cannizzaro l'Unione Italiana Cechi tutto insieme tutti insieme per rendere una giornata veramente storica per certi aspetti e poi la partecipazione di numerosi alunni diversamente abili dei loro compagni di scuola sarà una bella giornata una giornata dedicata ai ragazzi meno fortunati ma che attraverso lo sport hanno la possibilità di confrontarsi e quindi in qualche modo beneficiare delle strutture anche delle strutture sportive della città di Catania e questa sera al salotto di Sara Donzuso vi racconto ci sarà Mario Opinato ha recitato a Hollywood attore di fiction nazionali e internazionali appuntamento alle 19.05 e adesso parliamo invece della campagna mondiale Orange the World perché il club Soroptimist di Ragusa aderisce ha preso vita anche a Ragusa la campagna a livello mondiale contro la violenza sulle donne del Soroptimist la presidente Antonella Rollo ha già distribuito le veline per incartare le arance con la scritta Orange the World nell'ambito dei 16 giorni di attivismo un'iniziativa avviata dal Soroptimist di Vittoria della presidente Fausta Occhipenti sposata dai club di Sicilia e Lombardia due realtà geograficamente opposte che hanno deciso di fare rete verso obiettivi comuni il Soroptimist distribuerà delle veline di colore arancione simbolo dell'antiviolenza nelle attività gratuitamente per invitare i commercianti a involtare le arance a Ragusa un parrucchiere sensibile alla tematica e con tre sale in tre diversi comuni ha deciso di acquistare per le sue clienti 250 arance aderiscono ormai sempre più persone sempre più istituzioni ed associazioni e noi come Soroptimist Club a livello internazionale nella fattispeggio a livello nazionale abbiamo predisposto una serie di iniziative utilizzando il motto dell'ONU Orange the World e il colore arancione le veline saranno distribuite in tutto il territorio ebleo sulla carta è impresso il nome dell'iniziativa Orange the World dal 25 novembre fino al 10 dicembre iniziativa in tal senso sono state adottate anche da alcuni insegnanti di scuola materna a Ragusa che hanno donato ai piccoli alunni le veline per portarle a casa utilizzarle come tovagliette e segnalibri Carmela Leone una nostra socia e prossima presidente del Soroptimist ha spiegato il valore il valore perché il simbolo la carta la velina il segnalibro deve essere poi però esternato spiegando ai ragazzi soprattutto qual è il significato di questi 16 giorni contro la violenza alle donne noi l'anno scorso abbiamo realizzato anche delle panchine rosse ne abbiamo poste tre in tre punti nevralgici di Ragusa e Marina di Ragusa grazie alla grande collaborazione dell'amministrazione comunale del tempo insomma le donne devono essere libere di dire no liberissime di dire no alla violenza io adesso un'informazione utile per i cittadini di Scicli alle 15 non sarà erogata l'acqua potabile nel turno pomeridiano nei quartieri di Santa Maria la Nuova San Bartolomeo San Giuseppe Villa Iungi e via Bixio a renderlo noto il comune di Scicli per alcuni lavori di rifacimento dell'impiando di sollevamento idrico di Santa Maria la Nuova ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito buon pomeriggio di sollevamento idzie a tutti Autore dei sovrapposti